Una vita, anticipazioni, puntate spagnole. Lolita dà alla luce il suo primo genito, ma c'è un problema. La prima nuora di Ramon Palazzo darà alla luce il suo primo nipotino, che lo chiamerà Mosho. Il piccolino porterà tanta felicità e gioia tra Antonito e Lolita, ma purtroppo succederà qualcosa di veramente comico, perché il bambino piange, piange così tanto che si calmerà solo con le pecore di Jacinto. Ma non solo, scopriranno che il bambino avrà ereditato questo pianto proprio dalla famiglia di Lolita e Antonito sarà davvero disperato. A questo punto la giovane mamma escogiterà un piano, insegnargli al marito l'urlo delle pecore, al fine di tranquillizzare così il pianto del piccolo nascituro, ma purtroppo nemmeno questa soluzione riuscirà a tacere il nuovo bebè. Nulla riuscirà a tranquillizzare questo bambino, tanto che alla fine Jacinto consiglierà a Ramon di travestirsi da pastore, ma nemmeno in questo caso il bambino smetterà di piangere. Vi assicuro che saranno delle scene veramente tragicomiche e ancora ad oggi non si è scoperto come il bambino di Lolita e Antonito riuscirà a smettere di piangere. Restate aggiornati per scoprirlo.